Oggi facciamo chiarezza, questa storia qui dell'olio me ne avete detti di tutti i colori e allora io ero al supermercato e ho fatto il pieno di tutti gli oli che si usano in cucina ma ce n'è ancora e ho preso solo quelli normali naturalmente vediamo a cosa servono il prezzo, perché ultimamente bisogna parlare anche del prezzo e la resistenza al calore e quindi se sono adatti o no alle fretture eccetera 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 c'è un scontrino, carta canta il grande protagonista sono gli oli di semi di girasole che ce ne sono diversi tipi, perché nel video di cui parlavo dell'olio di semi di girasole per friggere mi avete detto no bisogna usare l'arachide, bisogna usare questo, bisogna usare quell'altro ecco adesso vi faccio capire perché ultimamente si usa l'olio di semi di girasole grande assente l'olio di palma, sparito eh, sparito anche dagli scaffali supermercati non c'è più, dov'è l'olio di palma? e purtroppo è stato accusato che faceva male di qui male di là non è vero, si faceva un po' male ma non era comunque sparito perciò è inutile che ne parliamo, non lo usa più nessuno cominciamo a parlare degli oli per la frittura allora, l'olio ideale per la frittura è l'olio di semi di girasole ad alto contenuto di acido oleico eh ma Gabriele, non è che tutti quanti possono tenere 6 tipi diversi di olio poi per ogni ricettina andare a cercare, guardare il video, guardare sul libro qual è l'olio giusto come facciamo? a fine video vi faccio un riepilogo di 20 secondi proprio alla fine dopo che vi ho fatto tutto il pippone 10 secondi dove vi spiego cosa io tengo in casa salvo questa volta che mi sono riempito di bottiglie di olio per diciamo sopravvivere con 2-3 bottiglie al massimo finché c'era in commercio l'olio di palma non c'era nessun problema, friggevi con l'olio di palma se non volevi usare l'olio di palma spendevi un po' di più e usavi l'olio di arachide tutto bene, hanno creato un aumento dell'acidità di alcuni acidi all'interno dell'olio di semi di girasole e hanno creato l'olio di frittura fatto con i semi di girasole perché costava meno però alla fine questa storia dell'Ucraina costa uguale quindi per friggere cosa si usa? si usa l'olio per frittura se poi voi guardate dove ci sono gli ingredienti c'è scritto olio di semi di girasole alto linoleico olio di semi di girasole alto oleico vuol dire che è un olio di semi di girasole con questi due acidi molto elevati che permette di resistere di più alle alte temperature e dura un pochino di più nel tempo quindi per friggere c'è anche scritto olio per frittura, quindi l'olio migliore da comprare per friggere è questo qui perché dura di più, può essere utilizzato più volte e tiene di più il punto fumo più elevato altrimenti torniamo al vecchio santo famoso olio di semi di arachide che come ingredienti ha olio di semi di arachide non c'è altro che una volta si cercava magari di non prenderlo perché costava di più costa sempre tanto però adesso con la storia che sono aumentati tutti gli altri oli costa come gli altri quindi scegliete un po' quello che volete la caratteristica diciamo dell'olio di semi di arachide è che è indicato per cotture prolungate a differenza magari dell'olio per frittura che è di girasole potenziato l'olio di semi di arachide dura un pochino di più però costa anche un pochino di più scegliete quello che volete come aromi non ne hanno sono olio di semi, non sono molto aromatici olio di semi di girasole è aumentato tantissimo il prezzo perché con la storia dell'Ucraina è scoppiata la guerra che poi mi devono spiegare questa cosa la guerra è scoppiata poche settimane fa un paio di mesi fa questo è olio sono semi che sono stati raccolti l'anno scorso è perché mi aumentano già adesso le bottiglie è stato fatto con i semi dell'anno scorso non con quelli di quest'anno comunque vabbè un po' come la benzina ideale per fare magari delle cotture dove non si vuole usare il burro dove non si vuole usare l'olio d'oliva è inutile usare questi qui che costano anche di più si usa l'olio di semi di girasole e va bene il sapore in odore ha un sapore molto delicato non si sente quindi va bene per cucinare quando non si vogliono usare gli altri oli i prezzi i prezzi vabbè tolto l'olio di semi vari che costa 30 centesimi in meno siamo lì comunque siamo fra i 3,50 euro e i 3,90 euro tutti questi oli qua quindi alla fine costano tutti uguali escluso l'olio d'oliva che costa un pochino di più perciò alla fine non è più come una volta che diceva vabbè prendo olio di semi vari risparmio qualcosa lo uso per cucinare per fare quelle cose lì uso l'olio di arachidi ma lo uso solo per friggere alla fine costano uguali perciò decidete un po' quello che volete forse è meglio fare per sapere l'indicazione giusta per ogni alimento quale olio usare perciò adesso ve le dico per friggere l'abbiamo già detto 1-2 arachidi e olio per frittura gli oli semi di girasole per cucinare per fare i soffritti quelle cose lì la salsa di pomodoro la base che non usa l'olio d'oliva olio di semi di mais è un olio adatto per condire al crudo soprattutto magari se chi non vuole usare l'olio d'oliva al burro sopra la pasta sopra il riso non ha aggiunte non ha additivi è solo olio di semi di mais adatto anche per fare i soffritti va benino anche per friggere però non ha senso perché costa come gli altri se non hai altro è l'unica cosa che se gli fai fare 170 gradi 175 per più di 5 minuti dopo lo devi buttare perché non è più buono olio di semi di soia si usa per condire a crudo anche lui se non vi piace il mais quelle soia ma la differenza è davvero infinitesimale entrambi sono adatti magari per fare delle salse fredde come la maionese da mettere nel pane quando si fa la cottura del pane ecco per queste cose si usano ma va che bella serie di oli che ho trovato sul mercato tutti uguali come li ho visti ho detto c'è che li tiro su che facciamo il video l'ho pagato io non ho lo sponsor sto giro però tanto l'olio lo uso olio di semi vari olio di semi vari è una miscela di oli in genere fanno una parte di olio di soia e una parte di mais o di girasole in questo caso è vediamo poi olio di semi di soia 80% quindi c'è l'80% di questo qua olio di semi di girasole il 20% letto così non serve una beata mazza perché comunque è uguale agli altri da condire a crudo per condire a crudo fare i vasettini a mettere sulla pasta a parte che a me oli di semi sulla pasta non si può neanche sentire non serve a niente serviva prima quando magari costava 50 centesimi in meno costava 1 euro in meno rispetto agli altri ma adesso che comunque costano 3,90 3,90 3,80 3,80 3,80 3,50 sono 40 centesimi di differenza è il 10% non è che c'è poi tutta questa grande differenza il re degli oli l'olio d'oliva extravergine allora io compro le tanniche da 5 litri perché risparmio un po' poi le travaso dentro nella bottiglia il prezzo io ho prezzo aggiornato ho scritto ho scritto a Vito Vito di Bari che mi ha risposto ciao Vito e gli ho chiesto Vito quanto costa l'olio lì da voi adesso in questo periodo mi ha detto da 8 euro a salire quindi questo è il prezzo che mi hanno detto io penso che sia verosimile perché Vito tra l'altro è anche un esperto questo olio va bene per fare tutto va bene per condire va bene per fare i sott'olio magari per la maionese no ecco una maionese con l'olio d'oliva non me la dovete fare però lo mettete nel pane a parte che nel pane va bene un po' io devo dire la verità nel pane prefisco l'olio di semi perché l'olio d'oliva si sente troppo c'è anche chi lo usa per friggere secondo me è un suicidio perché sì va benissimo per friggere però costa un accidente adesso magari se uno ha l'oliveto ha l'olio d'oliva che gli esce dalle finestre va bene usano per friggere però insomma e poi l'olio d'oliva lascia l'odore di olio d'oliva sì piace ma non è che piace proprio a tutti quindi vedete voi comunque come qualità come prestazioni è perfetto fantastico l'olio migliore del pianeta grande assente il burro chiarificato cioè il burro che a cui se volete ve lo faccio vedere in un video con semplice operazione sui fornelli sul frigorifero viene separato il lattosio e rimane puro resiste a delle alte temperature può essere usato per friggere può essere usato per cucinare va bene per farci tutto ecco però è inutile che parlavamo dell'olio il burro chiarificato è un'altra cosa poi ci sono tutti gli altri oli l'olio di nocciolo di uva l'olio di lino l'olio di sesamo l'olio di semi di anguri cioè l'olio si può tirare fuori l'olio di canapa sono tutti oli particolari ma non è che possiamo stare qui a parlare di tutti gli oli del pianeta ecco quelli sono un po' diciamo fuori da quello che è l'ambito normale tradizionale della cucina di tutti i giorni quindi siamo stati sugli oli classici io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia servito vi servirà se ci sono delle domande mettetele nei commenti che sapete che io bene o male rispondo a tutti appena posso grazie ciao quindi riguardando il video di quello di cui vi ho parlato mi sono accorto che manca una cosa che forse è molto importante ed è la cosa più pratica che forse è d'aiuto più di tutte le altre perché non è che uno può fare una pazzia come me che si compra sei bottiglie di olio diverso poi sta lì diventa armato cosa faccio questo ci metto questo questo ci metto quell'altro uno impazzisce così cosa fai o usi l'olio extravergine per tutto però costa oppure bisogna usare un olio che va bene per tutto che va bene per friggere va bene per fare gli arrosti va bene per fare soffritti va bene magari per mettere dentro nel pane nella torde eccetera dunque e se io fossi messo con le spalle al muro per decidere quale olio tenere in casa se ne dovessi tenere solo uno terrei quello di arachide perché comunque va bene tutto o al limite due l'arachide per fare tutto l'olio alto oleico di girasole per friggere e poi la bottiglietta di olio extravergine d'oliva buono per mettere l'insalatina ecco diciamo tre oli questi tre qui uno ci fa tutto al limite due l'arachide e l'olio extravergine d'oliva diciamo questo per chiudere il discorso ciao a tutti